Una nuova colonnina di ricarica energetica, in questo caso siamo nel comune di Capolona, uno dei primi comuni che ci porta verso il Casentino. Perché questa scelta? La scelta è di avere qui nel centro proprio della Toscana un punto di riferimento importante per la sostenibilità elettrica. Per noi è importante mettere qui oggi proprio questa colonnina per dare un segno forte ai nostri comuni soci. Nel crono programma ovviamente dell'azienda, quali saranno gli altri punti che saranno poi implementati? Stiamo partecipando a diversi bandi di gara, non pochi, quindi abbiamo in ponte un'altra quarantina abbondante di installazioni, sia quick che anche le fast. Ci stiamo anche inserendo nel mercato delle ricariche veloci. Sindaco, un passaggio importante per il vostro comune e per coloro che hanno un'auto elettrica in questa zona? Sì, un passaggio importante che fa parte dei nostri progetti. Da quando ci siamo insediati abbiamo pensato di impostare un percorso green nel nostro comune. Lo abbiamo fatto installando un impianto fotovoltaico in una scuola che ne era mancante. Lo abbiamo fatto cominciando un percorso di cambio di tutto l'impianto di illuminazione che è quasi all'80% oramai trasformato tutto a LED. Lo abbiamo fatto facendo progettare i nuovi edifici, scuola, palestra ed altre situazioni con delle regole che vanno in questa direzione. Il punto di ricarica era nei nostri percorsi in quanto completa, non completa ma arricchisce notevolmente questo percorso anche perché oltretutto aiuterai anche alcuni cittadini che già sono presenti con auto elettriche nel nostro comune.